Ancora una fumata nera tra i sindacati della scuola e il Ministero dell'Istruzione. Nessun accordo e sciopero già proclamato dalle sigle di categoria per il 30 maggio. Lunedì prossimo si fermeranno gli insegnanti e il personale tecnico amministrativo. CGL Cislewil, Snals e Gilda rivendicano il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a dicembre del 2018 e accusano il Governo di andare avanti per decreti su questioni che invece attengono alla materia contrattuale. Il nuovo disegno di legge, sostengono anche in Molise i rappresentanti sindacali della scuola, prevede un meccanismo per acquisire l'abilitazione poco qualificativo e ignora le tutele per i precari. Introduce l'ennesima struttura burocratica denominata scuola di alta formazione, prevede incentivi una tantum e non per tutti, reperendo le poche risorse dall'ennesimo taglio degli organici. Chiediamo, hanno annunciato la fratta della CGL e dei siati della Cisle, Fratangelo per la Will, Candeloro dello Snals e Rauso per la Gilda, che il Governo individui le risorse per il rinnovo del contratto e per stabilizzare i precari. La pandemia prima e l'inflazione oggi stanno penalizzando in modo drammatico i precari, in particolare, ma in generale tutti i lavoratori della scuola. La rigidità mostrata dal Ministero, hanno aggiunto, non ha lasciato margini alla trattativa. A Campobasso domani è in programma un'assemblea regionale in videoconferenza dalle 8 alle 11, il cui risultato sarà poi illustrato alla stampa nella sede della CGL di Via Mosca. Resta al momento confermato per l'intera categoria lo sciopero del 30 maggio.